Ok, si deriva il calcio, uno, calcio, uno, in un contesto di box o di MMA, in questa strada abbiamo visto che se io riesco a non essere attento in stadio qua, non è arrivato, non è arrivato, non è arrivato, però ogni difesa deve essere un attacco, nel momento di prima attacca con il calcio, io vado a entrare con il volto, ve lo porto giù, allora, calcio destro, uno, qua, giù, l'ho fatto ribaltare, ok? La mia schivata prevede già un'entrata di gomito al flesso solare, nel momento di prima attacca, questo è già un colpo, però se si ha fatto la gamba, in realtà questo sarebbe un colpo, ok? Ok, quindi mentre schivo l'alentatore, uno, due, proviamo.